Ed un saluto e un benvenuto anche quest'oggi ad Edero, il nostro settimanale di architettura e design. Con noi oggi abbiamo Michele Brunello, partner dello studio Stefano Boeri Architetti e di Don't Stop Architettura, proprio dal 2011 quando è nato questo nuovo studio di architettura. Con lui parleremo delle grandi occasioni del territorio e di come l'architettura in qualche maniera ha a che fare decisamente non solo con l'urbanistica, non solo con il territorio, ma con tutte le strutture di relazione sociale ed economica proprio di un territorio. Uno dei grandi esempi di questo modello di interazione con il paesaggio, con il territorio e con le strutture abitative è l'Expo 2015, di cui abbiamo uno dei grandi realizzatori, perlomeno di quello che è il Master Plan e il Concept Plan, con Richard Bardet e Jacques Herzog, appunto qui con noi. Gli chiediamo come è nata l'idea di Expo 2015 e quali sono le caratteristiche principali di un progetto così complesso. Assolutamente. Innanzitutto io ho avuto l'occasione di lavorare a Expo 2015 all'interno di una consulta di architettura come capo progetto di Stefan Buerri Architetti e le persone coinvolte in questa consulta di architettura avevano grandi esperienze e grandi eventi in tutto il mondo. Penso a Jacques Herzog con le Olimpiadi di Pechino, a Richard Bardet con le Olimpiadi di Londra che all'epoca si stavano realizzando e infine è stato coinvolto anche William McDonough che è un consulente sulla sostenibilità per Al Gore, cioè per tutto il sistema della sostenibilità ambientale degli Stati Uniti che è sicuramente all'avanguardia. La consulta viene creata per ripensare un modello o meglio pensare a come un modello di esposizione internazionale può avere qualche possibilità di successo in un paese come l'Italia, in una città come Milano essendo l'esposizione internazionale che accade dopo Shanghai, ovvero sia la più grande expo della storia la più ricca probabilmente, quella dove sono state messe in gioco più risorse e ha avuto un maggior numero di visitatori. Ecco perché non sempre le esposizioni internazionali sono stati dei grandi successi basta pensare appunto a Saragozza oppure a Danover come si diceva. Cosa si è pensato per dare la possibilità comunque a Milano di diventare protagonista internazionale e comunque insomma di tutelare il territorio e di incentivare a rilanciare l'agricoltura e non solo del territorio appunto del milanese? Assolutamente, noi abbiamo concepito, siamo partiti da una riflessione che l'Expo è un grande dispositivo spazio-temporale ovvero sia porta il mondo in un luogo, la città che ospita l'Expo e anticipa in qualche maniera il futuro di dove sta andando la società e l'evoluzione della città. Questo è successo storicamente nell'Expo che hanno avuto successo. Chi erano le Expo? Pensiamo a Londra del 1851, a Parigi del 1900. Prima sposizione internazionale, no? Assolutamente. o ha anche il grande successo negli anni 70 di Montreal piuttosto che il successo di Shanghai. Le Expo che hanno avuto successo sono quelle dove la città impersonificava in se stessa il tema che andava a proporre e il tema era di grande attualità. Milano vince Expo col tema Feeding the Planet Energy for Life cioè il tema della nutrizione, il tema dell'equilibrio tra produzione di cibo quindi tra luoghi e territori dove si produce il cibo e territori urbani e per questo il successo dell'Expo abbiamo pensato che deve partire dalla città stessa. Partire dalla città stessa vuol dire innanzitutto fare un primo passaggio cioè riconoscere Milano come secondo comune agricolo d'Italia cosa che non molti sanno, come capitale di una zona che non è solamente il nord Italia produttivo di manifatturiero ma è anche una grande zona agricola pensate che il 40% del riso consumato in Europa è prodotto nell'area vicino a Milano e quindi recuperare questa energia che poi vuol dire anche ristabilire un rapporto tra spazio coltivato e città che è un tema che è al centro della riflessione internazionale di tutto il mondo pensiamo al nuovo piano di New York come include e massimizza l'agricoltura urbana per dare qualità alla vita non solo per produrre a chilometro zero quindi tenendo conto di questo scenario siamo andati a ragionare su come si poteva innovare il modello di Expo cioè limitare la competizione tra architetture muscolari che devono attrarre grazie alla loro forza e spettacolarità perché è un'esperienza che abbiamo già visto fallimentare nei paesi europei appunto con il caso di Saragozza per esempio ma anche prima Nova perché l'Expo dura sei mesi e poi rimangono queste grandi scatole vuote ma abbiamo cercato di innovare il modello proponendo un'area agricola quale è oggi il sito di Expo che massimizzasse e portasse tutte le esperienze mondiali di produzione di cibo e di riflessione sul cibo mantenendo la sua vocazione e la sua permeabilità aumentando la biodiversità e creando un grande monumento di paesaggio e che abbiamo chiamato, Stefan Buer ha chiamato l'ortoplanetario e che è stato un momento importante per dare la direzione ad Expo e che oggi vediamo realizzarsi con molte difficoltà perché i modelli culturali ai quali siamo abituati concepiscono ancora il valore come un valore di metri cubi costruiti e non di implementazione dell'esistente o di sperimentazione anche di nuove forme ecco uno degli aspetti secondo me forse più interessanti di questa esperienza è quella dell'ecosostenibilità complessiva del progetto ed eventualmente anche del riutilizzo degli spazi costruiti c'è la possibilità di smontarli, portarli in altri luoghi vuole raccontarci un pochettino di quest'ottica della costruzione di grandi padiglioni di un Expo assolutamente, quando si dice un modello nuovo non si intende il costruire dei giardini o dei campi coltivati e basta che sarebbe un'esposizione orticulturale ma vuol dire utilizzare al meglio le tecnologie attuali per riempire forse di significato questa parola sostenibilità che oggi è molto abusata invece creare un modello futuro di uso del territorio periurbano perché Expo oggi è nella cintura periurbana di Milano è un territorio oggi agricolo e forse non ha senso impermeabilizzarlo e costruire secondo i canoni del Novecento quindi light architecture, architettura leggera addirittura William McDonough ha fatto questo libro From Cradle to Cradle che dà la culla alla culla il cui stesso libro era biodegradabile e lui predica, sostiene nel suo libro e dà degli strumenti a noi architetti per fare una progettazione che tenga conto del ciclo di vita completo cioè quasi delle architetture biodegradabili Expo è un'occasione per sperimentare se non un toto, almeno alcune di queste pratiche per dare dei modelli alla città futura altrimenti abbiamo l'ottica di un'esposizione universale che ha una durata nel tempo relativamente breve che deve essere un evento centrale magari anche per tutto il mondo ma che poi si potrebbe, si rischia di portare dietro delle cattedrali nel deserto come spesso accade appunto come spesso accade Expo dura appunto sei mesi per chi non lo sapesse Expo deve avvenire in un luogo recintato in cui si paga un biglietto c'è una realtà il BIE che è il Bureau Internazionale di Esposizione che governa le regole di un Expo e tra le regole c'è il fatto che tutti i padiglioni finito all'Expo devono essere smontati eccetto alcuni che vengono premiati e possono rimanere Ora, capite bene che oggi è stata la prima Expo pensata e progettata dopo la crisi economica del 2008 proporre dei modelli che sappiano includere queste nuove tematiche di sostenibilità non solamente come manifesto estetico ma strutturale ed economico e nei confronti della città stessa perché la legacy che rimarrebbe creando un orto planetario potrebbe forse dare spazio le comunità multiculturali che già esistono a Milano oggi e che troverebbero uno spazio anche in futuro per le coltivazioni dei propri prodotti tipici che oggi è un problema perché oggi come sappiamo ci sono grandi masse di prodotti che si muovono nel mondo invece un Expo che si ponga tra le proprie obiettivi dei prodotti agricoli anche da quel punto di vista il mondo forse sta perdendo una cosa che ci siamo dimenticati di dire è che ci ha dato una mano all'inizio nella messa a punto del concept plan Carlin Petrini di Slow Food oltre che a Claudia Sorlini che è la preside della facoltà di Agraria all'epoca che hanno proprio inserito questo DNA di conoscenza dell'importanza della biodiversità e della reale ricaduta economica e sociale di queste componenti ecco un'altra domanda le faccio una domanda un po' un po' drammatica se vogliamo che mi sta un po' tanagliando in questi ultimi tempi il pianeta rischia di vedersi ancora più in crisi di ecosostenibilità dopo la notizia chissà se è vera ma insomma molti la confermano del rischio che il polo nord il ciclo polare artico nell'estate del 2016 sarà decisamente scomparso ora a questa notizia mi viene da domandarmi vale ancora la pena di porsi la questione dell'ecosostenibilità in un mondo in cui ormai l'ecosostenibilità è marginale in qualche maniera nella ricerca è avanzata ma non strutturale nei paesi sia in via di sviluppo che quelli sviluppati cosa possiamo fare per dare un maggiore impulso? Assolutamente un'occasione come quella di Expo è un obiettivo che si pone un paese che dice nel 2015 io cosa voglio dire al mondo e come voglio ospitare il mondo allora se il paese stesso si pone un obiettivo alza la barretta a a volersi rappresentare come un modello futuro di se stesso allora forse si troveranno le soluzioni o quantomeno si lavorerà per un futuro delle questioni che lei cita se invece rincorriamo sempre i ritardi e il la dinamica secondo la quale Expo è un'occasione economica per concretizzare alcune infrastrutture per migliorare un territorio che abbia qualche autostrada in più e qualche torre uffici vuota in più ad alimentare un sistema finanziario che oggi mostra tutti i suoi limiti allora l'esperienza potrà anche forse ottrare dei visitatori ma sarà fallimentare quindi non sarà in orientamento con un futuro che si auspica insomma tutti forse assolutamente quindi l'occasione di Expo è ancora in gioco perché il nostro concept plan è stato un manifesto che si è stato messo sul piatto e che oggi come è giusto che sia è soggetto a diverse pressioni per esempio che chiedono una maggior concretizzazione fisica e meno radicale di quell'idea di orto planetario ma siamo convinti che comunque bisognerà fare i conti con quella sfida che è il vero obiettivo che darà un successo all'evento ecco proprio ancora parlando di Expo e di un'altra serie di realtà e di occasioni per il territorio italiano e non solo parleremo subito dopo la pubblicità rimanete con noi e con Michele Brunello ed eccoci di nuovo insieme a Michele Brunello per parlare di sostenibilità di architettura e anche di urbanistica in qualche maniera proprio del rapporto che c'è tra l'architettura e la città il paesaggio e la natura si stava parlando di Expo si stava parlando di Expo e degli aspetti ecosostenibili sia della struttura di per sé che del tema proprio di Expo un'altra cosa un'altra evento un'altra proposta estremamente significativa che ha vinto tra l'altro una menzione speciale alla biennale 13esima biennale di architettura di Venezia quest'ultima questa del common ground di David Chipperfield è il progetto appunto iCity aiCity del padiglione della Russia ecco vuole raccontarci un pochettino di quel progetto e di cosa nasconde poi quel progetto assolutamente iCity parla di una città di nuova fondazione una new town già in costruzione in Russia che si chiama Skolkovo Skolkovo è un grande esperimento urbano che forse poteva nascere solo da un paese dirigista con un passato dirigista come la Russia o come potrebbe essere la Cina dove quando la politica si pone degli obiettivi ha la capacità forse pagando altre monete altre problematiche che riguardano la diffusione delle decisioni e in qualche maniera il rispetto delle entità locali la collegialità diciamo in qualche maniera delle scelte assolutamente però Skolkovo è una città che viene fondata e costruita per 27.000 abitanti con l'obiettivo di diventare la Silicon Valley russa a 13 km dal centro di Mosca sì che per Mosca equivale a dire in centro perché forse è l'unica megalopoli che abbiamo in Europa Mosca sia per dimensione che per dinamiche interne e quindi un progetto proposto direttamente dall'ex presidente oggi primo ministro Medveev che ne ha promosso in tutto il mondo pensate che Steve Jobs si era espresso su Skolkovo su come doveva essere raccomandando una minor una scala molto piccola degli spazi che permettessero di crescere di iniziative spontanee come era stato poi diciamo il mito dell'informatica fatta in garage unita però a una grande possibilità di creare network e quindi Skolkovo nasce come una città che viene realizzata in pochissimo tempo perché è partita 3-4 anni fa e che ha avuto un meccanismo molto molto interessante che può ritenersi un modello anche per l'Europa di processualità cioè di come una committente un'amministrazione è capace di usare le energie creative degli architetti sia di livello internazionale che di livello locale mantenendo il controllo ma anche liberando le energie che possono essere date perché pensate che Skolkovo ha un urban council quindi una consulta sempre di architettura che riunisce faccio i nomi solo di Kazuyo Sejima David Chipperfield Jacques Herzog Gandhi Meuron tutti i premi Pritzker praticamente assolutamente se non sbaglio assolutamente Stefano Goeri appunto e noi anche io faccio parte del council insieme a una serie di architetti giovani o meno giovani russi come Boris Bernasconi Yuri Grigorian e Sergei Choban che comunque sono attivi in tutto il mondo e che questo parterra di architetti ha avuto da un lato il compito di giudicare e spingere un master plan un concorso di master plan realizzato tramite un bando internazionale e una volta che il master plan è stato definito tramite le linee guide di queste suggerite da questo urban council la scala successiva del progetto che diciamo era intorno al 500 il 1000 diviso per distretti è stato sviluppato dai singoli architetti che partecipavano al council creando così un interscambio tra controllo del committente e capacità di proposta degli architetti che ha avuto dei momenti di verifica sempre successivi creando una città che unisce speriamo ma che sulla carta unisce il meglio che potevano dare tutte queste diverse realtà coinvolte oltre ad avere una ricaduta di realizzazione di scelta anche notevole questo sì però ha avuto anche una ricaduta fenomenale nel mondo dell'architettura russa perché all'interno di ogni district sviluppato da un curatore il 60% almeno deve essere a concorso per giovani architetti russi che così si relazionano con queste archistar ma non ci piace chiamarle archistar ma abbiamo capito delle realtà che sicuramente globali che hanno una capacità di elaborazione globale quindi scouting per gli architetti locali grande capacità di controllo direzione e nello stesso tempo di assorbire le proposte da parte di diverse componenti per cui il processo è stato assolutamente interessantissimo un processo che è proprio il common ground di cui parlava David Chipperfield quando ci raccontava della della tredicesima biennale di architettura in qualche maniera questo dal punto di vista dei progettisti la città invece per stimolare la creatività come è stata pensata c'è una scelta diciamo in qualche maniera maieutica nella struttura della città nella struttura del paesaggio dell'architettura dell'urbanistica assolutamente innanzitutto c'è una serie di riflessioni che partono dall'idea che una città di 27 mila abitanti con una grande università un grande tecnopark all'interno non può contenere solo chi lavora in queste strutture ma deve contenere anche chi le fa funzionare chi lava i vietri chi fa le pulizie quindi c'è una grande mix sociale che non viene zonizzato secondo delle concezioni alquanto datate di urbanisti ma che crea un tessuto variegato in cui entrano a contatto diversi stili di vita quindi questo mix funzionale questo mix di utilizzatori crea anche quella imprevedibilità di relazioni che in qualche maniera stimola un tessuto sociale vivo chiaramente bisogna preparare la piattaforma per queste per queste per questi scambi di relazioni quindi Scolco unisce una diversa tipologia penso alle case che stiamo vedendo che sono ad alta densità e adatte per esempio di più a delle residenze universitarie piuttosto che delle case a patio che hanno un utilizzo chiaramente per chi vuole una vita più rilassata unito a questo invece c'è un grande una grande riflessione sugli spazi del welfare cioè tutti gli abitanti di questa città devono avere delle condizioni facili di vita e questo si ottiene attraverso una suddivisione per esempio un utilizzo delle strutture scolastiche non centralizzate ma diffusa sul territorio attraverso micronidi piuttosto che il grande asilo nido che contiene tutti una struttura e poi queste strutture come vedete nelle architetture si riflettono perché l'importanza del paesaggio in cui è immersa Scolcovo si trasforma nel caso dell'immagine che stiamo vedendo in un edificio paesaggio che non è né un parco cosa che avviene sul tetto né una struttura commerciale cosa che avviene sul livello che stiamo vedendo che è semi interrato ma che riunisce la componente paesaggistica e urbana alla ricerca soprattutto delle relazioni tra le persone questo è stato il pensiero guida poi all'interno della città che vedete rappresentata nella sua interezza c'è una tipologia per la università che si ispira ai grandi campus americani piuttosto che per il techno park che si divide in strutture pensate che c'è anche un piccolo reattore nucleare per la ricerca all'interno della città e quindi ogni tipologia ha una sua perché appunto questa città si occupa di information technology ma anche di medicina di efficienza energetica di nucleare e di tecnologia dello spazio il tutto il tutto in un attrattiva pubblico privato in cui non è un intervento come si può facilmente pensare che è finanziato dallo Stato e mette dentro le istituzioni pubbliche no lo Stato dà la piattaforma ma poi chi investe sono le aziende private per cui Microsoft per cui Cisco per cui Google tutte queste realtà si Google è un po' competitivo perché Google ha il suo headquarter da un'altra parte e non non diffonde diciamo centri di elaborazione in giro per il mondo per ora però tutte le realtà che invece cercano di avere anche centri di elaborazione creativa intellettuale in questo caso in Russia che godono di una piattaforma per certi versi unica oltre che alle agevolazioni fiscali tutte le cose che siamo abituati a fare anche in Italia quando cerchiamo di attrarre degli investimenti esteri però il valore aggiunto è che hanno creato un grande immaginario una grande qualità dell'architettura e poi anche devo dire che lo hanno appunto raccontato bene in giro per il mondo perché l'università non l'hanno data a qualche accademico russo che la sviluppasse pur avendo un livello molto alto ma hanno chiamato l'MIT che facesse una consulenza che insieme agli accademici russi pensasse a un nuovo modello di università tecnologica grazie a queste collaborazioni per certi versi uniche e possibili in Russia solo vista l'importanza strategica del progetto che è stato supervisionato dai media che hanno svolto una funzione di controllo molto importante possiamo dire che per ora è un progetto che ancora rimane un modello unico ed estremamente interessante a noi questi 24 minuti sono volati ringraziamo l'architetto Brunello vi salutiamo e alla prossima puntata di Dedolo arrivederci grazie arrivederci a